Noi abbiamo aperto una grande stagione, chiaramente la regione in particolare sul San Carlo e sul Ravello che sono le due grandi eccellenze. I numeri ci danno ragione, più cittadini che vengono, più telespettatori, più appassionati e tra l'altro minori costi perché abbiamo questo segnale positivo che la parte privata, la contribuzione privata aumenta in percentuale anche in un momento di crisi rispetto al finanziamento pubblico. Quindi valorizziamo le nostre eccellenze, le nostre straordinarie bellezze, la nostra straordinaria cultura e i nostri grandi contenitori culturali. Siamo molto orgogliosi di presentare oggi il programma per il Ravello Festival del 2013. Il domani è il tema, speranza del futuro, ottimismo, giovani, questa è la chiave che ci ha guidato. Abbiamo corredato poi l'azione e l'attività del Festival con altre attività di tipo formativo con la partnership della Facoltà di Agraria Portici e del Solorso da Bene in Casa. Allargheremo sempre di più questa rete, rete territoriale, rete di collaborazione culturale. Sono orgoglioso di dire da campano di adozione, da ravellese come cittadino onorario di Ravello che questa è una delle grandi eccellenze del Sud ma dell'Italia intera.